Maria Antonietta e Francesco sono i genitori di Gianvito, anzi di Super Gianvi. Hanno conosciuto l'energetica zia Caterina mentre il loro bimbo faceva la radioterapia a Firenze. Erano già a metà del percorso di cure e prima di conoscere questa donna spumeggiante erano chiusi in loro stessi, nel loro dolore, arrabbiati per quello che stava accadendo. È sempre inaccettabile una malattia e quando tocca a un bimbo lo è ancora di più. Dopo aver fatto la conoscenza di Caterina Bellandi, la tassista a Toscana più famosa d'Italia, hanno cominciato a ritrovare il sorriso perché il tempo del bambino e di tanti coetanei malati in ospedale diventava una vacanza e lei, come una moderna Mary Poppins, provava ad esaudire ogni loro desiderio rendendoli dei veri supereroi. Sono diventata tassista per caso quando il mio amore è nato al cielo, 17 anni fa. Lui nasceva nel cielo, nel mio cuore, nel cuore di chi comunque era colmo di lui. Come ogni persona che ci lascia sulla terra nasce in un'altra dimensione, una dimensione che io chiamo la terra di mezzo. Sono diventata tassista e sono diventata tassista al posto del mio compagno. Questo mi ha dato la forza e l'energia per non essere solo me, ma essere me al di fuori di me e un pezzettino di lui, un pezzettino di quello che lui mi lasciava. Dopo la visita nella scuola primaria Cagliati di Bitonto, dove Gian Vito frequenta la quinta elementare, zia Caterina è ripartita alla volta del reparto oncologico del Policlinico di Bari e della Casa Accoglienza. Il viaggio proseguirà a Taranto, dove si è in attesa del nuovo reparto di oncologia pediatrica al Santissima Annunziata e poi ancora verso Gruttagli e Martina Franca e Alberobello, l'unico navigatore, quello del cuore, l'unica musica, quella della fanfara dell'anima, piena di bellezza e armonia. Io avevo paura di non essere mamma, ero già adulta, con la perdita del compagno temevo di non essere mamma. E quando ho cominciato a fare la tassista ho incontrato famiglie, una in particolare che aveva un bambino nel cielo, quindi per me è stata una folgorazione. Ho pensato che avrei potuto essere vicina a una mamma che perdeva un figlio, perché questo era quello che sentiva il mio cuore. Certe cose non si possono raccontare, per i siti di nero è difficile, la gente già non ti ascolta quando parli di morte, devi parlare di nascita al cielo, di dimensione alternativa, altrimenti ci spaventiamo. educare al sentimento, educare alla paura, educare alla conoscenza che la vita è solo un prestito e che dobbiamo restituirla. Ognuno di noi ha ricevuto in prestito la possibilità di abbellire la propria esistenza. Lo deve fare e se non lo fa, quando la dovrà restituire, restituirà qualcosa che non piace. Ed è triste pensare che si restituisce qualcosa peggiorato invece che migliorato. È un prestito vivere.